Ore 10, è tutto terminato, sarete curiosi di sapere com'è andata. Nuovo rinvio tecnico al 3 luglio alle ore 13 e 4 luglio, mi sembra alle 9.30. Quindi, cari concittadini, dovrete aspettare ancora per sapere come va questa cosa. Di positivo c'è soltanto un fatto, che oggi si è presentato il sindaco con l'avvocato Graziani, per cui qualcuno a questo punto prende atto che è cambiato qualcosa. Non c'è quella disattenzione che c'è stata fino a qualche giorno fa. Adesso invitiamo ad andare a casa tutti i neo, gli ex candidati sindaco, tutti i frascatani che sono venuti qui, tutti i 300 candidati consiglieri, li mandiamo a casa e li faremo venire nuovamente il 3 luglio.